Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi di questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo al Windows Installer Package che non riuscite proprio ad installarlo sul sistema e che non funziona quindi non vuole proprio avviarsi oppure installarsi non vuole proprio fare nulla quindi sul sistema in descrizione vi ho lasciato vari comandi da aggiungere sul registro editor del registro di sistema ovviamente questo è l'errore che può uscirvi a me è uscito ieri e per risolvere questo problema andiamo un attimo su editor 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 del registro di sistema esegui come amministratore una volta entrati sul registro di sistema questi sono i comandi che ti ho lasciato in descrizione tu copi il primo perché dobbiamo entrare nel suo percorso file quindi vado a fare incolla qua sopra e faccio invio ovviamente mi porterà su questa cartella quante cartelle qui ci sono su shell tasto destro sopra nuovo chiave una volta creata questa chiave questa chiave devi chiamarla runas e fa invio una volta chiamata runas questa cartella eccola qua tu copi install as administrator copia inserisci questo comando in questo parametro dati valore e fai incolla e fai ok una volta aggiunto su runas nuovo chiave e vai a scrivere command mi raccomando fate anche attenzione agli spazi su command su questo parametro valore non impostato ci clicchi sopra fai copia e inserisci così questo dato di valore e fai ok una volta fatto chiudi qua e riavvia il tuo sistema operativo se non dovesse funzionare del tutto quello che ti consiglio di fare è di eliminare quel parametro command e di far rimanere così runas ok quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo al windows installer package se hai problemi commenta sotto al video cercherò di darti una mano e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao